Benvenuti in un nuovo video! E benvenuti in un nuovo video The Gustabox Unboxing Allora, ovviamente io non collaboro con The Gustabox però oggi nell'info box c'è un link se cliccate su questo link potete pagare la vostra prima box scontata quindi 9,99 euro comprese di spese e di spedizioni dal momento in cui io dicevo 50 punti ma dal momento in cui voi ordinate The Gustabox vi rilascia un codice sconto o un link anche a voi da dare alle amici e parenti così che loro risparmiano e voi accumulate i punti questa è la box di febbraio settimana, mese prossimo ci sarà doppio appuntamento mensile è già arrivato Coldbox e The Gustabox apriamo cosa ti aspetti? non ho compilato neanche un po' da San Valentino non ho scato, c'è qualcosa di cucurato no, io solitamente mensilmente compilo il questionario che mi da 5 punti e poi mi fa uno spore sono messo in un'altra cosa sono messo in un'altra cosa sono messo in un'altra cosa allora, la vedo per la fine chiedo tutte le brochure cosa è? Selection box allora, mi sono fatta bua mi sono troppo aggirata col pezzo è la pizza allora significa che questo perché oggi è uscito il video ma che venga io vi ringrazio immensamente per i bellissimi commenti che mi state lasciando sia sotto il video che è la sua Instagram e la pinza allora pensami cuore italiano la preferita di fatto in casa da Benedetta una base pinza no, no, va bene non bisogna riprovarla adoro wow, vai fantastico infatti sì ciocco rilla dolce ciocco salato come sono? tipo la croccante dolcezza delle noci pecan al miele il gusto del cioccolato esaltati da un pizzico di sale dai migliori anacardi di tostato wow secondo me questi sono buoni ecco li qua veramente spero che tutti riusciranno a fare una 24 ore speriamo aaaaaah floriball calve peanut butter crunchy buona strana, sarà felice mmm adoro burro da rag di crunchy della calvea mmm bellan ok addio ho visto una cosa spero che la peschi tu ho intravisto questa calve ketchup ketchup almeno al 50% di zuccheri l'ho già fatto c'è luca beh non era pomodori italiani formato formato già quello che provai con i peperoni eh con i peperoni come è vero i spaghetti io mi misi il ketchup sopra non era lo stesso questo è un nuovo formato formato famiglia formato family bella morato croccante e ricco di gusto lo speciale con mais viola e avena con i peperoni sono buonissime con mais viola e olio d'oliva bellissimo mi piace tanto wow adoro mi sta piacendo questa bocca interessante mi piace tanto pesca sulla destra pesca sulla destra vai 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 tira tira nooo madre mia aspetta però questo non è quello che piace a me gips di ceci senza glutine questo non l'abbiamo mai provato forse quitte probios nooo solo te il nostro altro preferito però mi piace c'erano quelle là il pecco rosso paprika 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 e lenticchie vado al gel sono molto contenta perchè oggi stavamo affrontando un argomento e trovare queste ogni volta mi fa capire che siamo sulla giusta strada veramente troppe cose collegate questa box pure in questo periodo colazione con krisby l'originale mai più piccolo quindi questo è il bello rosso nooo non penso c'è alcune novità spero l'abbiano presa anche loro questa box perchè è spettacolare che bene ragazzi speriamo eccoli no adoro sono molto tutto con il stesso colore ci devo andare io vai sta tenendo o no c'è ancora materiale beh queste non so quante volte le ho provate cioè allora sac la olive greche snocciolate le mediterranee penso non ci sia niente dentro problemi no 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 queste sono buonissime le ho provate un sacco di volte e veramente buone 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 prego mmm Doria semplicissimi verdure e seme con spinaci e semi tostati di te mi spino mi spino mi spino mi spino mi spino eccole qui tutti snack ovviamente poi nella challenge ve li farò vedere nel dettaglio no questi mi ispirano tantissimo anche questi viola poi poi magari per il mio gioco no io prendo ci hanno scontato ma ronna mia ci hanno scontato ma ronna non ci credo ci hanno scontato tutti i coca cola nooo guardate c'è qualcuno che si vede i video perchè ogni volta che diciamo poi troviamo i prodotti nella box quando l'altra cosa ci rimasi male no adesso qui no vabbè adoro no dopo ce la mangiamo uno no vabbè no ce la mangiamo proprio nel video ce la mangiamo le gusta box io vi amo che vuole adora coca cola mmm adoro ultimo prodotto mais friabile croccato quindi è il mais friante finite si si no bellissima cosa cioè mi è crescita questa allora facciamo una cosa degustiamoci una goliador ok e poi leggiamo le prosciutate adoro no questo è che sono 19 quindi io le arrivo sempre la bocca non ti ha le mani sporche eh eh andate la mettere mmm marrone salatini della doria 1,95 ketchup calvay 2,30 euro mais friabile la 0,99 gollador 1,99 le patatine pro bios 1,66 postiamo un po' di più ehm 1,45 sono il nome il prodotto ehm burro danaki di calvay 3,89 olive sacla 1,29 lapinza 2,69 crispy grisbee grisbee che buona la pinza 2,69 grisbee 2,79 ciocorilla 1,49 e scricchi sarebbero mais viola 1,69 pensavo tutto di più per il prodotto io tomo qua solamente 2 euro 2,50 mi è piaciuta questa box bella ok ci sarà una challenge che devo provare tutto e quindi nulla noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ah fateci sapere voi l'avete acquistata? ciao ciao